Un Natale di mistero nella preghiera, nella fede, nella speranza, Monsignor Raffaele. Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone, Santa Severina, dalle frequenze della nostra emittente, invita tutti a soffermarsi sul vero significato del Santo Natale, soprattutto in questa epoca in cui la pandemia ha in qualche modo cambiato il mondo. Monsignor Panzetta, che Natale sarà? Meno scintillante, ma più luminoso. Meno scintillante perché le risorse economiche che abbiamo sono di meno, le possibilità di spostamento, le possibilità di acquistare questo, quell'altra cosa, forse non si realizzeranno come tutti gli altri anni. Sarà meno scintillante, ma forse più luminoso perché la pandemia ha posto a noi grandi questioni di senso. C'è un bisogno di significato, c'è una ricerca di luce e io penso che quando ci si accosta al mistero dell'incarnazione come persone che sono mendicanti di luce e mendicanti di senso, come i pastori, come i magi, quando si giunge davanti al mistero dell'incarnazione con una fame, una sete di significato e di luce, si può scoprire la verità di quello che è accaduto a Bethlehem. E poi il messaggio di speranza per mettere da parte la disperazione che... ...porta a perdere il gusto della vita. Mettiamo da parte la presunzione, l'idea malsana di poterci salvare con le nostre forze e apriamo il cuore alla speranza, quella che è germinata nel grembo di Maria che è stata seminata nella storia dal Signore nostro Gesù. Che augurio si sente di fare? Di vivere santamente il Natale, nell'amore, nelle nostre case, nelle relazioni e poi anche di approfittare di questo tempo così bello per riflettere sui significati alti della vita e sulla bellezza di costruire positivamente il futuro. Auguri.